a a a c'è un paperito è un placer che con molto cariño Carlos Di Domenico dicembre 2021 no dice il nome a ver il paio delomo a ver il paio delomo che divina a questo me pongo il borro per il divino per i divino che mi mandano questo regalo di Carlito di Domenico che vivi per sempre in mio coraggio e in mia vita termina, sta per termine il anno però non terminerà mai esa relazione di cariño permanente che seguiremo tenendo mentre exista il universo divino questo paiollo di seda che mi combina il regio con questa camisa che tengo puesta oggi e questo gorrito anche mi piace così che ci ringrazio molto e grazie a la divina di Mariana che si è venuto a qui con su camera mi sta sacando bene parecchio di 250 anni come lo che ho bene, che suerte lo voglio molto Dios los bendiga felice anno nuovo molta felicità chius